Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao ragazzi, oggi abbiamo avuto tantissimo tempo e ritornate su Call of Duty Warzone Modern Warfare Non so se siete chiesti così ma quella sui dettagli, niente ragazzi, per questo video vi è piaciuto il prossimo video, commentate, condividete, iscrivetevi al canale di un rega E niente ragazzi, scusate, se oggi non c'è Rocco, ho voluto fare un video da solo, ma intanto vi è saluto pure Rocco, volevo fare un video da solo per giocare a Call of Duty Warzone Modern Warfare Niente ragazzi, per questo video vi è piaciuto, come ho già detto prima, 10 like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, così vi è piaciuto il prossimo video live E niente ragazzi, possiamo giocare Allora ragazzi Non so manco io cosa sto dicendo, ma qua sono dettagli Andiamo a giocare, se mi fa giocare forse Mi fa un grande favore Non so come si Avvia Ragazzi ragazzi Stiamo creando Un team Stiamo creando Stiamo creando Stiamo creando su Brossass SK Stiamo creando su Brossass Stiamo creando su Brossass Stiamo creando su Brossass Ucciso Ucciso Credo che sia il campo di Brossass Stiamo creando su Brossass Va bene Va bene Va bene Andiamo a vedere Andiamo a uccidere quello là Oh non muore Ok Ci siamo vendicati Raga Dobbiamo stare attenti Sempre tutto quanto Le nostre spalle Ragazzi eh Modern Warfare Che stiamo creando su Brossassass Che stiamo creando su Brossass Ho ucciso L'ecidio L'ecidio Davanti così Ok Ma Vabbè dici No Proprio qua mi ha preso raga Mi ha preso proprio nella te Nella capa E muore Ricidio Due secondi Morto Dobbiamo stare attenti raga Abbiamo L'ha fatto io St'arma L'ha fatto io Vediamo troppo Ok ragazzi Scusate l'interruzione Solo che Ho dovuto fare un attimo Ma pochissimo Un po' Un po' Sì Vediamo cosa riusciamo a fare Ragazzi Ma L'ha fatto io L'ha fatto io L'ha fatto io L'ha fatto io Quanto L'ho preso, guarda l'ho preso, l'ho preso qua, gocchio, che cavolo fa? Ma va bene, va bene, va, se la vi Ma non muore, guarda Affan cuore, dai, non è possibile, che cavolo Ok, ci godo Ciao amico nero, no scherzo, non sono un razzista Questo non è un video contro dei razzisti Ma che cavolo, oh ma dove? Ma era comunque corto che ero là, che era là, ragazzi Tra poco, arrivo tra poco Ok ragazzi, scusate di nuovo per l'interruzione Scusatemi E niente, andiamo con la pistoletta Con la pistoletta Scusate per l'interruzione di nuovo ragazzi, ma non è la miseria E non proprio volevo partire quelle cose Ciao amico Non scherzo Gracie What the hell 10 secondi, lo so zio, lo so Nella capa, nella capuccia Yeah, che bello ragazzi Niente ragazzi E vabbè, facciamo l'ultima partita, dai Facciamo questa qua e poi chiediamo questo video Devo prendere la bandera La bandera in italiano Pau Pau Nella tibia proprio Aia Ma 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 Eh vabbè raga Vabbè Si facciamo Ma che cazzo è questo raga Ma È più grande della mia capoccia Come fa a correre, scusate Con un robo nel genere Piccolino Dove sei Morti tutti e due Ok Bella Gigi raga Gigi 3 a 4 siamo Per noi Per le viste Non lo so Eccola Ok Sono soldato Però Se così no eh Ma che cazzo è Che c'è sta roba raga Dove si può Dove si è cacciato ancora Ma non Ma non Quanto cacchio ci vuole che carica Quanto ci vuole Cioè raga Non è possibile con un coso gigante così Cioè madonna mia Ok Ok Dobbiamo pareggiare raga Almeno pareggiare Eccola uno E muori Ok 8 a 5 per noi 4 a 5 per noi Ragazzi Ok Ok Ho capito che dobbiamo pareggiare i conti zio Non è che lo devi ripetere sempre Questo è mio 5 pari Eh Sì 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 Proprio Qua Non lo so vabbè Quei sono dettagli Cecchino Bello il cecchino Mi piace Ok Ok È morto uno Ma Grande l'ha ucciso Bravo Ci godo Ci godo Proprio 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 Qua Nel naso proprio 6 a 5 per noi ragazzi E niente Scontro 2 v2 armi in campo Scontro Prossima partita Vabbè ragazzi Noi ci fermiamo qua Grazie per la visione Lasciate un botto di like Commentate E condividete Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Così vi rendono tutte le notifiche del live Niente ragazzi Da me e da Rocco Scone Che oggi non c'è Vi ringraziamo E noi ci becchiamo A un prossimo video ragazzi Bella Grazie Grazie